280.000 euro da rimborsare allo Stato per la distruzione della statua del Datini che nel 2006 l'allora rettore del convitto Cicognini, Daniele Santagati, fece arrivare a Prato, una copia di quella collocata in piazza del Comune, prima danneggiata dagli studenti dell'Istituto, poi spezzata durante lo spostamento in uno spazio diverso della scuola e infine fatta in frantumi su ordine del rettore. Ora la Corte dei Conti chiede a Santagati, attuale preside dell'Istituto Datini, e neanche a farlo apposta, di rifondere il danno. I fatti sui quali il Tribunale si è già espresso nel 2012 mandando assolto Santagati risalgono al 2006, una vicenda prescritta da una sentenza della Corte di Cassazione, ma evidentemente i giudici contabili non ne hanno tenuto conto. Santagati presenterà ricorso e il suo avvocato già sta lavorando. Sono sereno, è il commento del preside, da un punto di vista penale è tutto sistemato ed è stata riconosciuta la mia estraneità. La Corte dei Conti ha fatto dei rilievi e si sa che certe cose sono lunghe, ma io ho pazienza e aspetto.